monti, laghi e fiumi d'Europa. Il territorio europeo è un territorio soprattutto pianeggiante però ci sono anche molte zone montuose e molte zone collinari. Le catene montuose più importanti d'Europa sono i Monti Urali, le Alpi Scandinave, i Carpazzi, il Caucaso, i Pirenei e le Alpi. E i laghi invece come sono? Innanzitutto i laghi europei sono circa 80.000 e sono quasi tutti di origine glaciale, cioè si sono formati dallo scioglimento delle nevi perenni di antichi ghiacciai. I fiumi invece, i più importanti d'Europa, sono il Volga, il Danubio, l'Ural, la Senna e il Tamigi.